Grave incidente stradale in via Tre Venezia, San Bortolo di Monselice, nella bassa Padovana. Nello schianto è rimasta coinvolta un'auto che è andata a sbattere contro il muretto di una fabbrica della zona industriale. A bordo, madre e figlia piccola che è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Padova con l'elicottero del suo M118. Sembra che le sue condizioni siano gravi e che sia attualmente ricoverata in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri in via di accertamento la dinamica dell'incidente. Grazie a tutti.